Salve, come va? Eccoci di nuovo insieme. In questa seconda parte scopriremo i 7 ingredienti per il successo dell'impresa alimentare. Valuteremo anche tutte le possibilità per utilizzare gli strumenti del progetto RDR, così che potrai avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Che dici? Riprendiamo? Mettiti comodo e goditi lo spettacolo. Facciamo un gioco. Gli stati di apprendimento. Ne faremo due. Il primo è a che punto siamo? Perché se non riusciamo a capire a che punto siamo è difficile che saliamo allo stato superiore. Rapidi, rapidi. Ce l'ho la consapevolezza di dove sono? Anche rispetto a scopo, utile, strategia e cliente. A che punto sono? È ottimale quello che sto pensando? Anche prima di scriverlo. Se lo scrivo è più chiaro. A che punto sono? E se voglio arrivare all'eccellenza, da dove parto? Secondo me è bene farla questa analisi. Anzi, è una preanalisi che aiuta a capire la persona che percorso vuol fare. Perché se non ho consapevolezza è difficile che mi assuma una responsabilità. La responsabilità è tipica del leader, del capo, di quello che vuole raggiungere per primi i risultati o di quello che vuole raggiungerli insieme ad altri. Se lui non ha chiaro il suo livello di consapevolezza, il suo livello di responsabilità. Non c'è partita. È inutile. Possiamo anche non iniziare. Ecco perché scoprirete che voglio sempre un pre-incontro. Sempre. Perché se non vedo consapevolezza e responsabilità è inutile cominciare. Nessuno ha tempo da perdere e nessuno ha soldi da buttare. Io per primo. Non assumo la responsabilità di altri. Ognuno deve assumersi la propria. Ma io la mia sì. Devo essere capace di capire se posso fare quella trasformazione o no. Così come secondo me negli stati di apprendimento bisogna capire se quel percorso che voglio fare, che sia multimediale, che sia in aula, che sia a casa mia, che sia a casa tua, parte da quale livello? So di non sapere. So di non essere un imprenditore. No. So di essere un grande imprenditore. Sono gli altri che non capiscono niente. Guardate che frequentissima questa cosa. è la follia. L'ego mi spinge a pensare che siano gli altri che non capiscono niente. E finché ne uno su cento condivido. Ma quando sono 99 su 100, ma ti verrà un minimo dubbio? O no? No. L'ego in genere ti copre qualunque cosa. Sono sempre gli altri che non capiscono. La moglie, i figli, i collaboratori, gli zii, le nipoti, i clienti. Ma fattelo vedere sto benedetto dubbio. Perché so di non sapere in genere ha due strade. La prima l'umiltà. Mi metto in gioco sapendo di non sapere. La seconda, quella peggiore, l'arroganza. So di non sapere e non me ne frega niente. O almeno è chiaro. E ognuno si assume la sua responsabilità. Tu ti tieni i tuoi 99 e io ve ne vado a cercare un altro. E che problema è? Poi c'è questo. So che posso farlo. Eh! Ma proprio oggi? Ma proprio adesso? In questo c'ho Natale, c'ho questo, c'ho quell'altro. Ma dimmelo tu. Quando pensi di riuscirci, chiamami. Vieni. Partecipa. Iscriviti. Quando pensi di riuscirci. Perché se pensi di poterlo fare, ma poi pensi di non riuscirci, è come se pensi di non poterlo fare. E poi c'è questo. Lo so, ho capito come si fa e poi non lo faccio. E lì c'è l'aria mazza da baseball. Eh? Perché sei pericoloso. Sei pericoloso. Hai capito che puoi diventarlo. Ma ti rifiuti di farlo. E io ti aiuto. Ma come no? Ti aiuto. Anzi, sono molto contento di aiutarti. Perché ti spingo laddove pensi di non riuscire. Proprio perché ho visto che lo sai fare. Ci siamo messi alla prova. so che lo sai fare. A mo' che fai? Io ti aiuto. No, burrone, eh. Chiuso per fallimento per me non esiste proprio. Però ti aiuto. So che lo puoi fare. Non su tutte le cose sono... no? Non è che un buon portiere automaticamente diventa un buon attaccante solo perché c'è la palla. No, non è così. C'ho un ruolo e magari in altri ruoli ho delle difficoltà. Certo. Certo, come no? Assolutamente sì. Non è che uno può fare tutti i ruoli in quello che... perché ha imparato quello a fare là, allora automaticamente... no. Non è così. E per ogni persona ci vogliono dei tempi. Non è automatico. È un pilota, metta, vu. Dopo può diventare... ma molto dopo può diventare automatico. Questi sono quelli che cominciano a vedere i mastini. Lo faccio di tanto in tanto. È così mi ritorni sempre al punto di partenza. Perché farlo di tanto in tanto significa dimenticarselo. Quando vai in bicicletta, se lo fai una volta ogni tre mesi, tutte le volte cadi. I bambini lo sanno benissimo. Non è un caso che quando gli dai quel giocattolo, ru, 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 cade subito. Cade, 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 cade. Poi a un certo momento non cade. E da quel momento non se lo dimentica più. Sì, adesso se io andassi in bicicletta avrei difficoltà. Certo, non sarò rapido come un ventenne. Però non cado. È qui che bisogna vedere i mastini. Non mollare, non mollare, non mollare. Perché adesso è rimasto poco. Continua a farlo costantemente. Quando sali e cominci a vedere che la cosa cambia, e lì ti viene anche voglia di... sì, sì, fai anche altri errori. Certo. Sicuro. Ma l'errore fa parte del gioco. E sbaglia solo chi fa. No, chi pensa. Chi pensa non sbaglia mai. Non c'è mai il risultato. Come fa a sbagliare uno che pensa? Possiamo ragionare se è d'accordo. Ma se non facciamo niente, se non agisco, è sicuro che non sbaglio. E poi c'è quello che io amo di più. Ma è raro. Molto raro. Perché a quell'altezza, quello va con le gambe sue. Io me ne vado. Non lo vedo più ai corsi. Sì, poi mi saluta. Ogni tanto mi dice, ti ricordi quella voce? E chi se lo ricorda? Beh, sì che me lo ricorda. Perché io lo so quanto tempo ci vuole per arrivare lassù. Lo so, l'ho vissuto sulla belle mia, l'ho fatto vivere anche ad altra gente e vi posso garantire che in alcuni casi siamo arrivati anche allo scontro. Perché è salutare confrontarsi anche con lo scontro. Se è uno scontro costruttivo, è salutare confrontarsi con lo scontro. La chiarezza fa parte del gioco. Non bisogna essere morbidi. Quando bisogna fare un gioco duro, che ne vale la vita di un'azienda, io non sto a giocare a mammoletta o, come dico, a dare lo smalto alle unghie dei cricetti. Non è questo il gioco. Il gioco è rendere un professionista, un imprenditore eccellente. E per me vale tanto. E quando vedo che si arriva a quella soglia lì, piano piano ma lontano e vedo che la gente è capace di farlo da solo. È bellissimo. È la vera essenza del mio lavoro. L'aiuto dell'esterno è soprattutto quello di inquadrare su quale elemento intervenire prima. Tanto sempre sette sono. Due funzionano meglio? Sì, ma se quei due funzionano meglio sono sbilanciati dagli altri cinque. E bisogna ribilanciarli. La ricetta non si può fare con un elemento. Se ne prevede sette, bisogna farne sette. Conoscete una ricetta di… o anche di gelato che si fa senza acqua? Si può fare? Cosa si fa senza acqua? Il gelato. Se può fare senza acqua? Sì, perché dice usa il latte. Ma il latte di che è fatto? Acqua. Se può fare… cioè negli alimenti se può fare una cosa senza acqua? No. Si può fare una squadra senza leader? No. Se può fare un progetto, un processo, una crescita senza un leader? Che ve lo devo portare io? Eh, consapevolezza e responsabilità. Se non c'è la voglia di questo leader o se non riusciamo a… chi volete che lo fai? Lo faccio io? Ma io lo posso fare sia il nostro di me o sulla mia impresa. Come faccio a trasferirlo a un'altra impresa se noi identifichiamo questo? Chi è il capo di questo progetto? E tutti si guardano. Nessuno che dice io. Faccio io. bene. E che sei disposto a fare? Niente. Ottimo. Risultato finale? Niente. Faccio niente e ottengo niente. Benissimo. Non è una mia responsabilità. Invece vengo qui, guardo i video, partecipo alle cose e poi vado a casa e non faccio niente. È come prima. Non devi aspettare 31 giorni. Niente volevi fare se hai perso del tempo e niente hai ottenuto. Perché non è partecipando o ascoltando che si ottengono risultati, ma è facendo. Sei in grado di capire da dove iniziare? No. Vuoi che t'aiuto? Poi però agisci. Quattro strumenti in croce, due sedie e goal. Sei disposto a farlo? Sì? Bene. No? Pazienza. Le risorse necessarie. Qui ci vuole tempo, denaro, non tantissimo, non tantissimo tempo, non tantissimo denaro e non tantissime persone. Perché per costruire un'azienda di successo non servono duecentomila persone. Si può fare anche con cinque. Ma io ce ne ho quindici? Eh, ma dieci le puoi lasciare a casa. Oppure puoi farlo anche con tutte e quindici. Ma non è necessario per forza un numero minimo. L'importante è che ci sia qualcuno che si assume la responsabilità di farlo. Eccoli. Questo è il logo. Il magnifico logo che è stato… Lo chiamo Magnifico. È la creatura mia. Se permetti, come lo vuoi che lo chiamo. Tu, come lo chiami il pane che fai? E tu il gelato, come lo chiami? Magnifico. La sapete la storiella di Magnifico? No, la racconto alla fine, sennò adesso mi vado fuori con la… è bellissima, una storiella carinissima. Ok? È bellissimo quel marchio, no? Dite di sì, grazie. Che potete ottenere? Allora, A. Non avere più l'angoscia di non farcelo. Questo in genere succede subito. Incomincio a prendere coscienza di fare un percorso e supero la difficoltà di pensare di non farcelo. B. Trovo la giusta soluzione per la mia attività. Non c'è una formula che vale per tutti. Ognuno ha la sua, ma trovo quella giusta che vale per me. In genere, poi, si comincia a vedere i ruoli e le funzioni. Il come, la famosa strategia di prima, mi dà la possibilità di identificare chi fa cosa per raggiungere tutti insieme quel risultato. Poi posso trovare e gestire le risorse necessarie. La formazione è uno degli elementi più finanziati in Italia. Qualunque percorso di formazione si può finanziare. Forse di 2 mila Euro no, ma appena poco di più ci stanno tutta una serie di risorse messe a disposizione dalle Camere di Commercio, dalle province, dalle regioni, dalle comunità europee, per la formazione sia della proprietà che dei dipendenti. Al punto che ricetta delle ricette, cioè questa entità che vola sopra la mia testa, mette a disposizione uno specialista delle risorse del finanziato, cioè della formazione finanziata. Perché ogni regione ha i suoi bandi, ogni provincia ha i suoi bandi e noi abbiamo invece uno specialista che per 11 anni ha lavorato in questo settore e dice, in provincia o in provincia vatte la pesca, puoi finanziarti 214 milioni di formazione in questo modo. Presentare un bando, presentare una domanda in un bando e farsi finanziare la formazione è uno degli elementi più finanziati. Non è un caso che abbiamo messo lo specialista. Quindi trovare e gestire le risorse necessarie. Uscire dalla gabbia, dalle carceri. Quando un lavoro diventa un carcere, bisogna uscire dalla gabbia. Cambiare lavoro? Sì, a volte. Oppure uscire dalla gabbia. Vedere la gabbia e farne un'altra. No, uscire dalla gabbia. Quando siete abituati a lavorare dentro la gabbia, anche il leone, la foresta, la savana non la vede più. Vede la gabbia. È normale. Io ho la mia gabbia. Voi avete la vostra. E fino a che voi non entrate nella mia non sarete mai in grado di dirmi, ma perché non provi a fare quello? Quando esci dalla gabbia vedi tutto più chiaro. E infatti per me è molto più chiaro. Perché non sto nella vostra gabbia. Vivo le gabbie. Ne vivo tante. Entro nella vostra e dico, ma non l'avevo mai visto. Sì, ma succede esattamente con me la stessa cosa. Mi arriva un collega che fa il mio stesso lavoro e mi dice, ma perché non fai così? È così che funziona. Quando stai sempre dentro quella gabbia pensi che quello è il tuo mondo. Ed è difficile da muovere. Certo è difficile. Basta che chiami uno e ti dice, guarda, esci dalla gabbia, devi con me, guardala da qui. Ah, eccola. Questo è banale, no? Ma è una delle cose più difficili che vedo fare negli ultimi 4 anni. È difficile aumentare gli utili. Ma anche no. Non so se si sente. Anche no. Mi datevi. Non è difficile. Sapete quanto vende chi ha un sito internet e fa l'e-commerce nei prodotti alimentari? Sapete di quanto incrementa gli utili? Cioè quello che non riesce a vendere nel negozio, lo stesso prodotto lo mette in un sito internet, ci costruisce un e-commerce, dici, ma chi vuoi che lo compra? Sapete che lo stesso prodotto in e-commerce può essere venduto anche a quattro volte il prezzo del negozio? Senza avere i costi del negozio? Sapete che in alcuni casi trovo degli imprenditori e dici, ma io sto negozio che ce l'ha a fare? E sai che mi stavo chiedendo la stessa cosa? Perché il negozio è una cosa del medioevo. Dopo il carretto passava e quell'uomo gridava gelati, c'era i negozi, perché sotto l'acqua non piaceva a tutti, no? E hanno aperto i negozi. Quando giri per negozi, eh, una volta era bello, ma adesso se ci pensate c'è uno strumento che si chiama tablet, smartphone, internet, che è il negozio del mondo. E lì c'è della gente che compra, non chiacchiera. Clic! Paypal! Pa, pa! Fatto! Nel negozio vendi a due e lì vendi a otto. Sì, certo, non è proprio quello dietro l'angolo, eh! Quello non è così. Se esco, vado lì, lo prendo a due. No, no, è quello dall'altra parte del pianeta. che per avere lo stesso prodotto nel tuo negozio vendi a due, è disposto a spendere otto. Eh, ma io! Eh, ma io che? Guarda che è così. E aumentare gli utili in questo modo è semplicissimo. Veramente semplicissimo. È un altro salto, no? Non l'ho fatto mai. Rifacciamo il discorso di prima. Ma siccome non l'ho fatto mai... Eh, ma non vuol dire che devi fare tutto tu. Vuol dire però che ci stanno quei clienti. Perché se no quella gente che vende, come fa ad aumentare gli utili? Il fine, il fine, lo scopo. Cosa vuoi essere da grande? Un'azienda di successo. Da grande? Da subito. Subito o da grande dipende quanto tempo dedichi a questa cosa. Subito hai un risultato. Da grande dipende quanto tempo dedichi. Cosa ti offriamo? Le possibilità sono veramente tante. Adesso ve ne faccio vedere alcune. Perché via via che questo processo o questo progetto RDR si è sperimentato, sono arrivati anche tutta un'altra serie di strumenti. All'inizio non eravamo così organizzati. Poi via via abbiamo costruito tutta una serie di elementi. E gli elementi sono quello a cui state assistendo. RDR Live. Perché credo che anche poterlo seguire da casa su un video dia la possibilità a persone che anche hanno difficoltà a spostarsi. Perché gli artigiani a volte o vado e lascio il mio negozio in mano a chi boh, oppure non posso andare. Ecco perché penso che sia utile anche uno strumento multimediale. Poi ci sono gli ebook. Che voi certamente avete già comprato. Ma se non li avete comprati potete trovarli o in offerta o da acquistare lungo il percorso. E gli ebook cresceranno esponenzialmente. Non scritti tutti di a me. Questi due li ho scritti io. Dove li trovate? Beh, è facile, no? Nel sito ricettadelelicette.com E poi c'è questa. Che è la vera grande novità che proponiamo. La formazione multimediale. Sempre per venire incontro alla difficoltà di spostamento, ai costi di spostamento e alla possibilità di entrare in un'aula, è stato fatto un sistema di video che trovate nella pagina Cosa ti offro, che dà la possibilità di rivedere tutte le volte che si vuole i sette ingredienti per l'impresa di successo segmentati per argomenti. Complessivamente sono 45 video che si possono o comprare in un intero pacchetto o comprare anno per anno. O anche con altre offerte. Poi se seguite e diventate follower del sito vi arrivano periodicamente tutta una serie di richiami e di offerte nuove. Questa è la vera grande novità. Questo è un altro grande servizio. Parlare con me. Una sorta di pre-processo. Cioè prima di mettersi in viaggio verso, eh, con chi ho a che fare. Cosa voglio ottenere. E quali sono le risorse che devo mettere in campo. Cioè per intendersi. Cosa voglio ottenere non lo posso dire io. Con chi ho a che fare sicuramente con me. Ecco perché parlane con me. Quali sono le risorse che ti servono per arrivare dove vuoi arrivare e te le posso dire anche prima che parti. devi spendere o devi avere tot persone o devi mettere a disposizione tot ore. Che ricordate la risorsa più grande che abbiamo non sono i soldi ma è il tempo. senza tempo, senza tempo, i soldi non servono. In genere chi costruisce ville, compra Ferrari e continua a lavorare 20 ore al giorno ha solo fatto un favore al costruttore della villa e alla Ferrari. Se c'è la Ferrari in garage non te la puoi godere. Non avevi nient'altro di meglio da fare che dare i due soldi alla Ferrari? Eh ma c'ho la Ferrari. Eh. C'ho c'ho ma non me la godo. E' diverso il concetto. Ecco secondo me già solo col servizio parlare con me si riesce a capire dove puoi arrivare. Poi c'è questo che adesso vedremo in dettaglio perché è uno degli argomenti per cui siete venuti qua. La start up. Decido di fare un percorso poi trovo difficoltà ad arrivare al risultato. C'è un bonus che viene chiamato start up che aiuta appunto a raggiungere quello risultato specifico. E poi c'è la soluzione. La soluzione finale. Quella dove tutti sono felici e io comincio ad andarmi. Come si fa? Vengo a casa vostra e faccio il consulente. Una volta vengo con la mazza. Una volta mi porto i mastini. Una volta vengo col sorriso. Ma vi ci porto. In alcuni casi ci vogliono tre incontri. Raro. Molto raro. In altri casi ci vogliono trenta mesi. Ma non perché io devo stare da voi trenta mesi. È perché voi invece di prendervi sul serio per un'ora al giorno preferite continuare a fare cazzate rispetto a quello che dite di voler raggiungere. Se può dire cazzate in televisione. Certo che se può dire. Me ne assumo tutta la responsabilità. Eh? Ma è questo. Dico di voler costruire e poi non gli dedico tempo. È perché avevo altro da fare. Cazzate. Cazzate. O è questa la cazzate che ti racconti o sono queste le cazzate che fai. Uno, due, tre. Ciao. Amici come prima. Allora questo è il progetto di formazione multimediale. I primi video, tanti, sono gratuiti. Eh? Racconto sostanzialmente come nasce, perché nasce e anche quali risultati può ottenere. E poi in uno di questi video c'è secondo me il regalo più grosso che potevo fare a quelli che si iscrivono per avere questi video. la gestione del tempo. Perché il vero problema che ha un imprenditore non è il denaro ma è la gestione del tempo. E proprio per far capire come funziona la formazione ho realizzato un video sulla gestione del tempo che arriva gratuitamente a casa. A casa, lì. A casa no, quel piccione viaggiatore no. Però attraverso quello strumento. C'è difficoltà anche a reperire queste... Perché di video sulla gestione del tempo in giro, gratuiti, non è che se ne trovano tanti. Non ho fatto un video da 25 minuti, non l'ho fatto nemmeno da 45 minuti, è un video di 5 minuti. Due strumenti, punto. Come risparmiare il 30% di cazzate? O di tempo perso inutilmente? Ecco, andate lì, lo fate e ve lo ricavate. Gratis. A me non piace la parola gratis. Però non ce n'è un equivalente. Come si chiama? Maggio? O giugno? O anche settembre? Perché, tra l'altro, questo strumento ti dà la possibilità... Se fallisci... Fallisci, non fallisci mai. Solo quando smetti. Ma se fai un errore la prima volta, puoi rivederlo una seconda volta. Non è che devi ripagare. Anche quando compri i 45 video, non è che li compri e spariscono. Li compri. Sono tuoi. Non li scarichi. C'hai una chiave d'accesso e diventa tuo. Tutte le volte che vuoi, lo puoi anche imparare a memoria. Non diventi me, per fortuna. L'attore sono io. Non ci stanno attori presi da altri. La faccia è la mia. Ed è stata una scelta. La voce è la mia. Non c'è la voce di altri. E anche quella è una scelta. Ma la responsabilità è la tua. Vuoi risparmiare il 25%? È gratis. Non lo vuoi fare? Arrangiati. Non gli vuoi dire che non hai tempo? Com'è che faccio nel film? Eh, lo so. È la cosa più frequente che mi sento dire. Non ho tempo. E io rispondo. E chi vuoi che lo fa a posto tuo? Dimmi chi vuoi che lo fa a posto tuo. Io lo so chi lo fa a posto tuo. Perché in genere quando tu non dedichi tempo all'impresa, l'impresa non va bene. E prima o poi c'è qualcuno che prende il tuo posto. Il cliente va via e a posto il cliente arriva prima il consulente, poi il commercialista, poi l'avvocato, poi il giudice e insieme al giudice la banca. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Lo vuoi trovare sto 25%? Guarda, è pure gratis. Un esercizio più facile credo di non averlo potuto trovare. Provaci. Male che vada, tornerai indietro. Non hai perso niente. C'è solo un'opportunità in più. E lo so che è difficile. Com'è che dicevamo ieri, anche da settembre, è difficile. È difficile? È difficile. Perché ci dobbiamo dire che è facile? Eh? Troppa facilità, troppa felicità? Se ci diciamo che è facile ci semplifichiamo la vita? E allora diciamoci che è facile. Che senso c'ha di dire che è difficile? Dopo che mi sono detto che è difficile, che cambia? Se provo a dire che è facile, magari ci provo. Quindi cominciamo a dire, oh, guarda, è facile. Semplice. Facile. Divertente. Per me è anche divertente. Spero lo sarà anche per voi. Di che invece ci occupiamo nei corsi? Di cosa? Eccolo qua. Qui per sommi capi. Il primo è questo. Se non hai i clienti, non pensare all'impresa. Palla numero uno. Per arrivare qui bisogna avere questo. Averlo. Renderlo fan. Renderlo fidelizzato. Farlo diventare, come dicevamo ieri, il nostro miglior venditore. E c'è della gente che ci riesce benissimo. Sì, sì, adesso lo chiamiamo follower, fan. Una volta si chiamava il passaparola positivo. È identico. Ecco, lì parliamo principalmente in due giorni. Svisceriamo prima il concetto di chi è il cliente. E ci accorgeremo che è uno che somiglia esattamente a noi. Con i suoi pregi, i difetti, i valori, le abitudini. Ma come noi può essere influenzato. E poi via via andremo a vedere come posso catalogarlo, come posso classificarlo, come posso attrarre quelli che mi servono per fare in modo che da qui ricavo questo. perché il cliente va amato soprattutto perché mi porta ad avere utili. Sto parlando dal punto di vista dell'impresa. Il cliente va amato a prescindere, secondo me. anche quando non mi porta utili. L'importante è che sia felice. Se oltre al fatto che è felice mi porta anche utili, siamo più felici tutti e due. Non parto da come si fanno i soldi. Perché i soldi è il risultato di questo processo. Questa è la questione più importante. Per tutti. Qualunque sia il livello di impresa che partecipa. Il secondo parla di questo. Palla numero due. Lo scopo. Ce l'hai chiaro? E' comprensibile? Sai come si fa un obiettivo? L'hai mai fatto? O ti sei affidato sempre a quello che dice Einstein? L'importante è che funzioni. Non importa se sai come si fa. Basta che sai che funziona. Ma funziona? O sarà meglio costruire un sistema in cui sia chiaro qual è l'obiettivo da raggiungere a tutti quelli che lo devono raggiungere? E dopo che ho capito lo scopo vitale, nel giorno successivo, posso cominciare a capire qual è la strategia eccellente per raggiungerlo? Sì. Si mettono in campo degli strumenti. Per qualcuno saranno più familiari, per altri meno. Ma vi garantisco, adesso perché l'acronimo SWOT è un acronimo, adesso gli sto cambiando anche il nome a SWOT, perché è un acronimo inglese. E gli inglesi, prima che arrivassimo noi romani, grugnevano. Perché dobbiamo parlare in inglese? Io, che sono figlio italico, perché devo usare il termine SWOT e complicare la vita agli altri? Gli cambio nome, sicuro. Adesso qui ancora non ci ho avuto tempo, ma è sicuro che gli cambio nome. Con un acronimo più facile. Che cos'è lo SWOT? È un quadrante che ti fa parlare di? Forza, debolezza, opportunità e minaccia. E minaccia. Ma non è più facile? Ecco, in questo percorso impareremo a usare uno strumento che è un quadrante. Cioè... Dove da una parte scriveremo, ma sarà veramente un punto di forza quello che vogliamo fare? E dall'altra diremo, ma magari mi indebolisco. Perché bisogna calcolare anche tutte le implicazioni legate a quello che voglio raggiungere. Così come... Ma quali sono le opportunità che mi offre questo... Scoprirò le nuove Indie? Chissà se Colombo l'avrà fatto lo SWOT. A volte non serve nemmeno. Bisogna seguire l'intuito. La passione, sì. Però di questi tempi è bene anche farle delle analisi. Perché la passione a volte ci spinge troppo al di là. Facciamo delle analisi. Vediamo qual è la strategia migliore da seguire e poi scegliamo se farla o non farla. una, ma anche più di una. Con lo stesso strumento. Non con altri cinquanta. Con lo stesso strumento possiamo prendere in esame più strategie per arrivare allo stesso obiettivo. Chiaro? Qui avrei potuto scrivere business plan. Perché la sostanza è la stessa. business plan. E poi avrei dovuto parlare coerentemente al titolo di tutta una serie di termini inglesi che sono i nove passi che servono per fare il PEA. Progetto Evolutivo Aziendale. PEA è una cosa che me l'ho inventato. Non esiste. E per fortuna. Esiste business plan. Modelli, centinaia. E chi li fa? Quando è che fate i business plan? Quando dovete andare in banca a chiedere i soldi. Eh, ma oggi? Ci andate ancora in banca a chiedere i soldi? O è la banca che viene da voi a chiedere i soldi? Perché loro non ce l'hanno più. Allora, chi è che deve scrivere business plan? Loro o voi? Ma voi scrivete come fare tutti i passi necessari per costruire il progetto che farà evolvere la vostra impresa. Due giorni. Uno per fare un macro progetto e uno per farli. Quello dettagliato. C'è anche la parte che dice a chi li chiede i soldi? Ce l'ho? Li porto? Li ho con me? Sì? E allora li chiedo. Non ce li ho? E lì ci stanno tutta una serie di option. 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 No, opzioni. Perché la parola option deriva da opzioni, che è il latino. E siccome quelli grugniscono, è ora di cominciare a fargli capire che la parola opzioni è quella che ha dato origine a option. Non il contrario. Io non sono molto tifoso dell'Italia, però certe cose mi fanno cazzata matti. E questa è una di quelle. Business plan e ho bisogno di un consulente che mi scrive. Ma quando mai? Ma perché? Nove paginette e scrivo un progetto che cambierà la vita della mia azienda. Brand non l'ho trovato. Marca si chiama. Ma Marca mi pare una roba da… C'è presente quei film dei texani, dei cowboy, che marcano il cow? Il cow. Marca. No, no. Marca no. Brand. Almeno come marketing. Pazienza. Non si traduce. Marchettara. Eh… Sì. Ma fa pensare ad altro. Brand invece no. Brand è quell'affare che identifica me nella testa dei clienti. Che identifica la tua attività nella testa dei clienti. che provoca le emozioni giuste per far sì che il tuo cliente torni da te. Questo è il brand. Non il logo, che è un altro termine latino. Adesso ci vuole spacciare per americano. No, cazzo. È latino. Logos. Non è quel segno grafico che somiglia alla mela, alla pera. No. Quello è un'altra cosa. È un aspetto del brand. Quello è il marchio. Poi c'è il logo. Poi ci stanno altre parole. Ma il brand sono anche io. Che in questo momento sono vestito esattamente come voglio che tu mi veda. Non è un caso che in tutto quello che proietto tu vedi sempre lo stesso golf da 15 anni. Ma al pari di altri mi viene in mente quel tizio là. Come si chiama? Quello che veniva ai miei corsi un po' di tempo fa. Marchionni. Marchionni. Che compra lotti di maglioni tutti uguali dallo stesso fornitore. Così faccio io. Non dallo stesso fornitore. È un altro il mio fornitore. Ho diversi di questi maglioncini. Perché quando tu vedi la mia immagine vedi questo maglioncino, questo orologio e questa faccia. Con o senza occhiali. E lo so non è bello da vedere. Però è questo. Questo è brand. Non dare altri punti di riferimento. Questo è. Questo è quello che devi mettere nella testa del tuo cliente. Cosa provoca? Spero delle emozioni piacevole. Altrimenti il cliente non torna. Il posizionamento è un altro aspetto. Perché mi dà la possibilità di attrarre solo il tipo di clientela che voglio. Faccio un esempio. Vendo gelato. Anzi no. Passo indietro. Produco gelato. Lo produco perché lo voglio vendere. Lo voglio vendere a chi? Perché se produco gelati e voglio avere una clientela che siano bambini, devo produrre dei gelati che hanno colori particolarmente vivaci, sapori particolarmente neutri e anche se sono un professionista etico, ma è solo a quelli che io mi rivolgo, uno scarso contenuto di zuccheri. Altrimenti formiamo dei bambini obesi, cosa che piace molto alla medicina. che si garantisce sin dalla tenera età tutta una serie di persone da curare. Ma se non scelgo il target bambini scelgo obesi. voglio attrarre gli obesi. E cosa vorranno da me gli obesi? Esattamente tornare bambini. Quindi dovrò fare un gelato dietetico che gli dà la possibilità di mangiare un qualcosa che gli culla l'anima ma che li fa dimagrire. Posiziono da una parte o posiziono dall'altra? O con lo stesso prodotto posso posizionarmi su due target diversi? Questo è il senso di catenare un posizionamento oppure un altro. Parto prima dal brand o dal posizionamento? E a questa domanda diamo risposta in questi due giorni. Questo è bellissimo. La prima parte riguarda il leader. Senza leader non c'è squadra. Squadra che vince non si cambia. Cazzate. Le squadre che vincono cambiano. E cambiano anche frequentemente. Quelle che vogliono perdere sono quelle che non cambiano. Perché quelle che sono idonee per raggiungere un risultato non necessariamente ne raggiungono altri. Il motivo è semplice. Ce ne stanno tanti. Ma uno di quelli più frequenti è la perdita della motivazione. C'ho una persona che sta con me da 25 anni. Tua moglie? Sì. Ah. No, no, un altro. Come mai sta con te da 25 anni? Produce allo stesso modo? C'ha lo stesso entusiasmo di 25 anni fa? Tu sei la stessa persona di 25 anni fa? No, no, no. E non ti viene in mente niente? A chi tocca fare questa analisi? Lo cambio o non lo cambio? Non lo posso cambiare. Dove sta scritto? Dove lo posso cambiare? Nel senso non lo posso sostituire? Come dico come battuta. Non lo posso sciogliere nell'acido? Come mia moglie, no? Rischio la galera per sciogliere nell'acido mia moglie? No. Posso rischiare di diventare povero per separarmi da mia moglie? No. Mi tengo mia moglie? Sì. Allora aspetto che lei mi scioglia nell'acido? Lo valuto questo rischio o no? Me lo devo tenere per forza? Sì? E allora c'è un rischio. C'è un rischio. Lo posso cambiare? Sì. Ma cambiare anche come persona? Sì che lo posso cambiare. Se riesco a coinvolgerlo in nuovi progetti. Perché la squadra che vince cambia se cambia le motivazioni. Allora posso anche permettermi di tenere la stessa. Altrimenti, come succede in tutte le squadre, le squadre si cambiano. Ma senza dover andare tanto distante, no? Dentro la stessa azienda. Conoscete le persone che nascono dentro quell'azienda e muoiono dentro quell'azienda? Sì. La proprietà. A volte. E anche la proprietà cambia. E perché gli altri no? Quindi rompiamolo questo assunto della squadra che vince non si cambia. E per romperlo, il primo a doverlo rompere è il leader. La prima parte di questi due giorni è dedicata al leader. Cosa deve essere il leader? Come si diventa? Si diventa o si nasce? Altra domanda che ci faremo. Si diventa? La risposta è si diventa. E come si diventa leader? Che caratteristiche deve avere? Che competenze deve avere? Quanto siete leader? Riuscite a fare qualcosa per voi stessi? No? E come pensate di far fare agli altri le cose che volete voi? Allenatevi su voi stessi e poi dopo sei mesi tornate e allora potete diventare leader di altri. C'è una bellissima parabola di Gandhi che poi raccontiamo in quei due giorni. Poi secondo giorno portate la squadra e lì c'è chi porta le sei mogli, c'è chi porta i collaboratori, c'è chi fa incrociare. Perché per la prima volta a costruire una squadra tutta una serie di persone che nemmeno sapeva dove esserlo. Perché esiste la cozzaglia, il gruppo e la squadra. La cozzaglia è quella che io incontro quando salgo sul treno della metro. Lì c'è un sacco di gente insieme a me che sta lì per caso, ognuno col suo obiettivo e prende solo l'unico strumento che è il treno, la metro. Questa è la cozzaglia e molto spesso la stessa cosa trovo dentro l'azienda. Poi c'è il gruppo che invece si è allenato per fare qualcosa insieme e c'è chiaro qual è il ruolo e qual è la funzione per fare quel qualcosa. E poi c'è la squadra che è un'altra entità che a prescindere dal leader, a prescindere dallo scopo riesce a giocare con o senza alcuni elementi. Ecco, questa è la cosa che piacerebbe fare a tutti, la grande squadra di successo. Peccato che già fare un gruppo di successo è complesso. Ma dal gruppo di successo alla squadra ci stanno delle poche regole che bisogna praticare e lì scoprirete quali sono le poche regole da praticare per avere una squadra di successo. Su squadra sono anche tre persone che giocano a bocce, due che giocano a tennis, è già una squadra. Poi sono in tanti che giocano in due a tennis, no? Ma non è che tutti hanno successo. Ci stanno quelli che tirano semplicemente palle e pensano di essere squadra. E invece no. Per essere squadra bisogna avere delle altre competenze. Fine, il conto della serba. Potevamo chiamarlo profitti e perdite, che è sempre la grande differenza tra avere un utile e non averlo. Invece io ho preferito chiamarlo il conto della serba. E mi sembrava la cosa più semplice. Cosa fa la serba? La serba perché faceva i conti? Perché i padroni all'epoca dei servi non maneggiavano denari. Loro andavano a fare la spesa e quando tornavano dovevano portare dei conti che servivano per la spesa del padrone e per la spesa loro. E quindi dovevano riuscire a conciliare due spese con lo stesso denaro. Complicato. Molto complicato. Ma non è la stessa cosa. Devo riuscire a conciliare i costi che ho, e sono certo, con l'utile che voglio ottenere. Perché allora riesco a dire quanti ricavi devo avere. Non il contrario. Tutti parlano del prezzo di vendita. Ecco, il prezzo di vendita, dal mio punto di vista e dal conto della serba, è il risultato da quelli che sono i costi a quelli che sono i ricavi che voglio avere, altrimenti non ho impresa, e poi ho il prezzo di vendita. Strano, eh? Molto strano. Ma assolutamente no. Quali sono i costi di un'azienda? C'è qualcuno che dice che se non avete questi tre dati subito, a disposizione, non potete mai diventare imprenditori. E dovreste averlo per ogni singolo prodotto che vendete. Per ogni singola linea di prodotti che vendete. Per ogni singola azienda o attività che mettete in commercio. Io mi meraviglio quando entro in casa dei titolari, dei soci e dico, benissimo, qual è stato l'utile dell'anno scorso? E la risposta più frequente è, aspetta, telefono al commercialista. Ma il commercialista ti dice l'utile? No, il commercialista in genere che ti dice? Quando ti telefona il commercialista? Quando ti dice a O, o in qualunque altra lingua voi vogliate, ho pronto l'F24 per farti pagare le tasse. Non ce l'ho! E chiedi il mutuo. Bel lavoro. Non trovi? Non è così? Ti telefona per caso per dirti, guarda, hai avuto un'incidenza dei costi su questo prodotto un pochino più elevata rispetto a prima, cosa aspetti a rivederli? Ma dove? In quale film l'avete visto? Nel libro dei sogni, forse. Il commercialista fa un altro mestiere. E voi affidate a lui l'utile della vostra azienda. Voi, ragazzi, il conto della serva lo fa la serva. Il conto dell'utile di un'azienda lo fa l'imprenditore. Non lo può fare uno esterno. L'esterno può gestire la contabilità, le fatture, ma chissà l'utile è l'imprenditore. Quanto è l'utile che avete fatto l'anno scorso? Come fa... Più forte? Ah, non avete il microfono? Eh, sì, grazie. Perché è così? Oh, quanti costi avete... Ma se non sapete l'utile, figuratevi i costi. Quali sono le voci che incidono all'interno della vostra azienda? Come costi? Tutti sanno il primo. Che è? Almeno il primo. Lui è assolto. Eh? Perché non sa quello che dice, no? Come fa quello sulla... Padre perdona loro perché non sanno... No, no, non la riprende questa per carità. I? Personale. Quello è il primo. In qualunque azienda vai. Personale. Eh? Poi la secco... La te... E la nona? No, no la nona di Beethoven. La nona voce qual è? Ma se non sai le prime due, alla terza, come dicevo... Ecco, ma cominciare a padroneggiare queste cose non è utile al commercialista che vi deve far pagare le tasse a vostra insaputa. Dovete essere voi a padroneggiarlo. Dice, ma io devo fare altre cose. Ah. E quindi l'impresa la governa un altro. La serva, quando usciva, non doveva pensare altre cose. Doveva pensare a mangiare. Perché senza utile, senza quello che ricavava dalla spesa che faceva per i padroni, lei non mangiava. Volate bassi. State a livello della serva. Cominciate a fare quel tipo di lavoro lì e vedrete che troverete la strada per fargli utili. Perché se aspettate che il commercialista lo fa, farà esattamente come abbiamo detto all'inizio. Quando va tutto bene, il merito è mio. Quando va tutto male, la colpa è la vostra. E come dice Proietti, è facile e facile fare i froci col culo degli altri. Questa per favore mettila che mi è piaciuta. Ok? Non vi risulta? A me risulta abbastanza spesso. Perché tutte le volte che lo chiedo, tutti mi dicono telefono al commercialista. Il commercialista non lo sa. Non lo sa. Anzi, dirò di più. Non gliene frega niente. Che è diverso. Perché non lo sa, è ignorante. Non gliene frega niente, è complice. In quei due giorni uscite, ci avete lo schermetto facile facile, andate a casa, prendete quattro dati, cominciate a scrivere A1, B2, C3, totale. E come dice il mio amico Bill Gates, ricavi meno costi, utile. Se li tenete voi, è probabile che riuscite a farlo. Se lo fate tenere ad altri, pazienza. E allora, che fare? Il valore e il calendario dei corsi li trovi nella pagina corsi ed eventi nel sito www.ricettadelericette.com A questo punto, ti starai ponendo delle domande, proprio come succede in aula. Bene, puoi inviarmele a questo indirizzo. Ricorda che le tue domande e i tuoi suggerimenti sono molto preziosi per noi. Ora permettimi di farti due domande. Quanto costa farlo? E quanto costa non farlo? Adesso hai tutte le informazioni che ti servono per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Ti aspetto, buon viaggio e buona vita! Ciao! 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 Ciao!